pazzesco bentornati carissimi qui sul canale del dottor cedrei o benvenuti qualora foste dei nuovi ingressi arrivati tramite la mia clamorosa e sottolineo clamorosa soprattutto per coloro che mi conoscono tramite youtube partecipazione al programma ciao darwin siccome è un qualcosa che può risultare come estremamente lontano da quello che tendenzialmente trattiamo qui sul canale ci tengo a sottolineare che normalmente qui sul canale dottor cedrei trattiamo di filosofia storia della filosofia e eventualmente qualora ce ne fossero di interessanti di esperienze che mi sono capitate e di cui vi sono testimone vi riporto la mia personale visione di ciò che mi accade e questo direi che ne è uno dei casi più particolari se non addirittura il più particolare e va detto che si tratta di un'esperienza che io non mi aspettavo per niente il tutto avviene qui ci tengo a sottolinearlo ieri è andata in lunga la puntata ieri era il 22 dicembre 2023 il tutto la registrazione è avvenuta a giugno 2023 cari amici questa è la fine di una giornata clamorosa di due giornate clamorose che mi hanno visto direi abbastanza protagonista in un qualche cosa di assolutamente inaspettato inaspettabile questo short era venuto subito dopo la puntata subito dopo il clamoroso svolgimento della puntata quindi anche dopo il mio incredibile successo per chi avesse visto ieri la mia prestazione televisiva nel gioco finale di ciao darwin a me fa ancora ridere se devo essere onesto ripensare il fatto che sono stato al ciao darwin adesso vi racconterò un po quella che è stata la mia esperienza nel momento in cui parlo cioè ora quello che è il mio presente io non ho ancora visto la puntata so che andrà in onda domani ho appena fatto un video in cui anticipo il fatto che domani ieri per me anzi ieri per voi andrò in televisione ed è una cosa abbastanza incredibile anche perché su questa cosa ho tenuto un discreto riservo non ovviamente con i miei parenti più intimi le persone qui con cui sono più in confidenza ma generalmente non è che io l'abbia sbandierato poi così tanto sono state le persone a cui l'ho detto che in realtà l'hanno poi sbandierato in maniera clamorosa per cui la stragrande maggioranza delle persone che mi conosce sa che sono andato alla televisione ma veniamo al caso particolare come è successo che io abbia partecipato a ciao darwin ebbene io devo dire è stato veramente un fulmine a ciel sereno perché mesi fa per l'appunto pochi giorni prima di registrare quindi intorno alla metà di giugno subito dopo la fine della scuola ho ricevuto questo messaggio su instagram che io utilizzo pochissimo per cui già è stato strano il fatto che io abbia letto questo messaggio in cui mi veniva chiesto se ero il dottor sedrei quindi immaginando che si trattasse di una delle centinaia di migliaia di persone che mi contattano confermo il fatto che sì ero io il dottor sedrei e la persona dall'altra parte della chat che agostino che saluto mi scrive di essere di un personaggio che lavora per mediaset e che avevano pensato a me per un programma storico allora va detto che la dicitura storico come dire mi ha tratto un po' io già mi immaginavo puntata clamorosa col barberone o cose di questo genere un corrado augas che voleva un professore in sala ovviamente non era così perché storico andava inteso non nel senso di storico cioè relativo alla storia ma storico cioè relativo alla storia della televisione comprendete bene che la cosa è stata leggermente deludente per quanto mi riguarda perché subito dopo è arrivata la telefonata ci siamo accordati per una telefonata pochi minuti dopo questa chat su instagram e sono stato messo in contatto con daniele bonolis che a quanto ho capito deve essere una sorta di parente di paolo il quale mi ha reso edotto del fatto che la trasmissione a cui ero stato invitato era darwin come lo chiamano loro e avevano pensato a me per il ruolo che io ricopro su youtube di filosofo dedito all'ozio ora la questione è siccome io difendo ho difeso la categoria del divano loro hanno pensato a un una visione del divano non necessariamente legata al non fare niente e basta ma a un non fare niente giustificato giustificato filosoficamente il che devo dire anche abbastanza senso devo anche essere onesto sono molto convinto siccome mi hanno contattato veramente pochi giorni prima della registrazione tipo cinque o sei giorni prima della registrazione senza e qui ci tengo anche a dirlo che io avessi fatto alcunché io non avevo registrato nulla né fatto alcun tipo di richiesta per apparire in televisione mi hanno contattato loro credo qui siamo nel territorio dell'ipotesi perché devono aver visto il mio video sull'ozio parleremo dell'ozio aristotelico fatto anni or sono in cui parlavo dell'ozio aristotelico e probabilmente hanno connesso le due cose cercando un sostituto di qualcuno che non è andato all'ultimo momento dopo questa telefonata io ho dato un via libera genera generico diciamo ovviamente mi hanno anche informato riguardo a un eventuale cachet che ovviamente mi hanno detto non esserci però va bene così non è un problema non era quello l'elemento fondamentale quello oggi fosse stato non sarebbe dispiaciuto ma andava bene così gli ho detto un generico sì ma ero onestamente pienissimo di dubbi l'ho comunicato alla mia famiglia e ai miei amici i miei amici belluinamente mi hanno sospinto ad andare perché è un'occasione che capita solo a te a noi che non partecipiamo per nulla dello spettacolo non possiamo vedere cose di questo genere avere occasioni di questo tipo e quindi va bene c'era un grande entusiasmo anche molto relativo alla presenza di madre natura in trasmissione mentre da parte della mia famiglia c'è stato in un certo senso una sorta di dubbio più comprensibile più vicino anche a quelli che erano i miei dubbi perché in realtà ciò darmi non è che sia proprio per l'appunto un programma storico un programma super culturale diciamo anzi la parte dell'essere umano che viene tirata fuori è tendenzialmente quella ridicolizzata e ridicolizzabile e quindi un po di dubbi c'erano devo dire la verità ciò nonostante tra l'altro va detto che sapevo già che 9 su 10 avrei avuto una cattedra questa a settembre pochi mesi dopo e c'era anche il pensiero di chissà come l'avrebbero presa i miei studenti questo è un pensiero che ho sempre più forte chissà come la prendono i miei studenti e i miei colleghi ma ormai alle ai apta est il dado è tratto le cose sono andate come sono andate spero di non aver fatto una brutta figura siccome ribadisco non l'ho ancora visto probabilmente monterò questo video con anche una porzione post visione in modo tale da avere anche una visione di ciò che possono aver tagliato di quella che la mia esperienza si ecco mi sento di dire che non hanno tagliato niente e quindi con un bel po di dubbi ho passato una notte veramente un po turbolenta con migliaia di pensieri che mi passavano e mi attraversavano la testa ma alla fine ho deciso di confermare ho deciso che sarei andato perché alla fine è un'occasione in effetti di vedere e soprattutto è questo l'elemento anche di poter raccontare quindi di sfruttare anche a favore del canale diciamo la verità magari per fare qualche visualizzazione in più come funziona la televisione perché effettivamente si tratta di un programma che io da bambino seguivo magari non con questa costanza clamorosa ma che comunque seguivo e quindi ero veramente incuriosito sono veramente incuriosito dal mondo televisivo di vedere come funzionano le cose come effettivamente funziona una registrazione di un programma televisivo e devo dire che questa è stata la spinta principale il desiderio di fare innanzitutto un video che magari fosse interessante quindi descrivere l'esperienza di un partecipante a un programma televisivo e dall'altra di vedere da filosofo la cosa che mi interessa di più è esperire la realtà quindi esperire una realtà che era ormai lontanissima dal mio modo d'essere dalla mia vita di tutti i giorni da quella che è fondamentalmente la mia quotidianità insomma ho deciso di confermare una volta confermato mi hanno mandato i biglietti mi hanno pagato il treno con treno alta velocità da qui a roma sono dovuto andare fino a roma sono rimasto lì per ben tre giorni due notti e tre giorni quindi incluso il primo e l'ultimo giorno con il viaggio e una volta arrivati lì siamo andati direttamente agli studi non siamo nemmeno passati per l'hotel l'hotel abbiamo visto solamente la sera e una volta andati agli studi ci sono state le prime presentazioni mi è stato attribuito un numero ho dovuto anche consegnare dei documenti medici per confermare il mio stato di salute perché ci sono delle prove in cui tra l'altro ho scoperto non me lo ricordavo c'era stato anche un problema di un concorrente che ha avuto un brutto incidente a ciao darwin questo non lo ricordavo comunque ovviamente si parano quelli della produzione quindi ho firmato anche una volta arrivato lì una sorta di liberatoria immagino e anche una questione riguardante la privacy quindi per cui non potevo dire delle cose prima dell'avvenimento della puntata quindi questo video non sarebbe potuto uscire esattamente a giugno ma può uscire soltanto adesso e appunto c'è stato affidato il numero io non mi ricordo il mio numero 20 buonasera 20 buonasera buonasera alessandro losti una volta datoci il numero abbiamo dovuto fare la presentazione quindi ho dovuto dire il mio numero il mio nome il mio cognome chi ero e mi sono deciso di presentarmi come dottor sedrei filosofo e youtuber voglio vedere come è venuta sta maledetta presentazione quando effettivamente sono stato chiamato durante la puntata alessandro losti filosofo youtuber filosofo youtuber buonasera momento dai che a me non può che filosofia sotto lo sì tra l'altro sotto mentito nome perché mi chiamo dottor sedrei ma dottor sedrei raggio triste ma qui siamo ancora in una fase precedente siamo nella fase in cui si stavano nemmeno facendo le prove stavano valutando noi e questa valutazione avviene attraverso dei provini che avviene direttamente lì presso gli studios in questa praticamente questa piazza piazzola con i due cameroni da una parte quello nostro dall'altra quello degli degli avversari che erano gli sportivi e tutti noi a turno a turni di 10 andavamo in un'altra in un altro piccolo van a fare il nostro provino per quanto riguardava il talk che è l'elemento su cui spingevano maggiormente all'interno di questi provini la cosa che gli interessava maggiormente era vedere che cosa avremmo detto qualora noi fossimo stati selezionati da madre natura che girava il mondo durante il momento del dibattito in cui da una parte si difende la causa del divano mentre dall'altra si difende la causa dello sport ebbene io ho fatto la mia battuta hanno voluto sistemare qualcosa perché effettivamente la prima parte era buona la seconda invece andava un po' a morire quindi mi sono costruito un piccolo discorso che avrei detto in trasmissione qualora fossi stato selezionato così come è stato però non so se poi mi taglieranno questo è un po' il dubbio che posso avere prima di tutto anche a livello religioso mi pare che il settimo giorno il buon dio non è che si sia messo a fare squat in quella stessa situazione è venuto fuori che mi stavano tenendo in considerazione per il gioco finale ma per partecipare a questo gioco finale ci sarebbero stati dei provini ulteriori che sarebbero avvenuti il giorno dopo qui infatti siamo ancora nella primissima giornata in cui c'era un sole incredibile noi eravamo all'interno o all'interno del camerino molto grande per più persone o nella piazzola sotto questo sole cocente a sudare l'anima e ci siamo rimasti tutta la giornata sia del primo che del secondo giorno e il primo giorno ci sarebbero state poi le prove con prove si intende che abbiamo provato l'entrata attraverso la scalinata altissima devo dire neanche abbastanza spaventato soffrendo io di vertigini che però fortunatamente è andata bene quindi si prova l'entrata si va a sedersi al proprio posto Monolis però ci ha presentato quali sarebbero dovuti essere i nostri compiti che di fatto era quello di stare seduti al nostro posto fare un po' di confusione quindi tifare per la nostra fazione cosa che devo dire la mia fazione è riuscita a fare perfettamente perché avevo la nettissima sensazione in trasmissione di essere in curva e fondamentalmente seguire le regole quindi rendersi conto di quando si è stati selezionati che non è così facile il momento di confusione nel comprendere chi è stato chiamato è abbastanza evidente perché la lucina che si vede quando si è seduti al proprio posto non è così chiara come quando la si guarda dal davanti ciò detto nella mia situazione quando poi sarò stato convocato il giorno dopo sarò stato selezionato il giorno dopo per parlare non ho avuto problemi di sorta che io mi ricordi poi magari mi rivedo in tv e c'è il momento di terrore ma non mi sembra ecco vi dicevo a questo punto introduciamo il rapporto con Bonolis e Laurenti che di fatto è un rapporto inesistente ci sono qualche chiacchiera che si può fare nel momento di prova quando si è andati a prendere il proprio posto per vedere dove ci si deve sedere che è già tutto preventivato tutto estremamente preventivato ed estremamente ordinato il modo in cui preparano l'avvenire della puntata questo va detto, va riconosciuto che un programma televisivo c'ha un ordine che una registrazione su youtube io non ho mai visto anche in quelle più importanti a cui ho avuto la fortuna di assistere la televisione c'ha dei mezzi incredibili incredibili, è bellissima la costruzione del set come il set viene costruito, come viene gestito e come vengono anche gestiti i rapporti con noi noi fondamentalmente eravamo degli ospiti trattati meglio di quello che ci meritavamo per quello che era il mio punto di vista mi sembrava che ci volessero far sentire più importanti di quanto in effetti non fossimo e fondamentalmente però il rapporto con le star quindi con Bonolis e Laurenti è come uno spettacolo teatrale loro sono all'interno dello studio, sono di fronte a noi però comunque loro agiscono come se fossero in teatro si rapportano con noi perché noi siamo delle comparse in uno spettacolo teatrale solo nel momento in cui c'è bisogno che si rapportino con noi vi dicevo Bonolis ci ha spiegato le nostre regole quello che avremmo dovuto fare poi abbiamo assistito anche alle prove della sfilata che sarebbe avvenuta poi il giorno dopo ci hanno spiegato come viene gestita la strutturazione delle parti registrate che ci sono ma non si vuole che sembri che ci siano come ad esempio le parti che sono fuori dallo studio c'è tutta una costruzione e un montaggio tale per cui non sembra che la cosa sia stata registrata è comunque piuttosto interessante perché si vedono anche delle devo dire per un content creator soprattutto per un costruttore di video come sono io è anche interessante vedere come avviene il taglio in televisione e devo dire che il taglio in televisione avviene rarissimamente perché la diretta vi dicevo ricorda moltissimo uno spettacolo teatrale di fatto non si rifà niente non si rigira nulla tutto è praticamente un one shot almeno la nostra puntata è andata in questo modo quindi è un finta diretta ed è vero ma questa finta diretta fondamentalmente è registrata senza tagli o almeno la nostra puntata è andata avanti senza tagli bene una volta viste le prove abbiamo fatto non mi ricordo onestamente l'ordine è probabile che questo sia avvenuto prima perché le prove sono avvenute verso sera e poi siamo andati in albergo ci sono stati i provini per quanto riguardava il gioco finale provini del gioco finale che consistevano in una serie di domande che venivano fatte individualmente a ognuno di noi che entrava presso il caravan dedicato agli autori e entrando dagli autori dovevamo rispondere a un tot di domande che ci sono state proposte e io ho risposto a tutte le domande in maniera corretta ad eccezione di una ovvero me lo ricordo l'alliofobia che cos'è l'alliofobia? dopo aver fatto una discreta figura sono caduto su questo termine che onestamente non conoscevo io avevo valutato che poteva derivare da alius, alia, aliud quindi la fobia dell'altro in realtà era un banalissimo fobia dell'aglio ci ho detto, ho sbagliato solo l'ultima domanda sono uscito dal van è entrata la persona dopo di me per fare il provino finito lui quindi dopo pochi 5 minuti dopo pochissimo tempo arriva la notizia che hanno selezionato me con il record di Ciao Darwin perché io non avevo sbagliato nemmeno una risposta io devo dire sono rimasto innanzitutto sorpresissimo perché c'era molta gente che ci vedeva molto a partecipare al gioco finale io ero relativamente interessato e soprattutto tesissimo io ho passato questi tre giorni con una tensione addosso clamorosa perché da una parte potevo non essere sicurissimo della scelta che avevo fatto di andare dall'altra c'era il fatto che sapevo che sarei andato in onda di fronte a tantissime persone e quindi ero molto preoccupato come sempre mi succede quando c'è un avvenimento che ritengo importante di fronte a me e come dire ad andare in diretta anche se non è proprio in diretta di fronte a tantissime persone molte di più rispetto a quella a cui sono abituato un po' di tensione te la mette e comunque io già ero teso mi sono reso conto del fatto che non fosse vero cioè non era vero che io avessi dato tutte le risposte in maniera corretta ma ho fatto finta di niente c'è stato quindi questo tuboni gate per cui il gioco dei tuboni finale era stato relativamente indirizzato per avere la mia presenza all'interno del gioco non so bene quale fosse il motivo per cui volevano me forse perché comunque ne avevo date abbastanza giuste di risposte rispetto alle medie di coloro che tentano questo però veramente sto ipotizzando perché non lo so ciò detto avevano deciso di essere andato io le povere persone che non hanno nemmeno potuto fare il tentativo perché avevano scelto me accettavano per il fatto che io avevo indovinato tutte le risposte io devo dire mi sono sentito anche piuttosto in colpa però ho mantenuto il silenzio sono stato zitto fino a questo momento qui in cui sto fondamentalmente denunciando questo scandalo clamoroso per cui hanno voluto mandare me che però vi assicuro non ho rapporti familiari con alcuna persona tra i selezionatori e quindi sapevo a quel punto che avrei avuto sicuramente un ruolo molto importante all'interno della puntata avrei avuto l'ultimo gioco nelle mie mani chi ha avuto il modo di vedere la puntata sa com'è finita in quale regione nasce il Po? nel Piemonte non lo dica col disprezzo nel Piemonte nel Piemonte non ho sbagliato che era una cosa che tenevo perché il mio avversario all'inizio mi ha detto mi raccomando vai piano lui tra l'altro incredibilmente era uno sportivo sì ma sportivo di altissimo rango che mi ha stupito devo dire perché lui è andato alle Olimpiadi e ha preso un bronzo come canottiere ed era lì come me come ospite a rappresentare una parte nel programma quindi mi ha stupito perché io cavolo un bronzo olimpico mi sembra pur sempre un bronzo olimpico io infatti ho anche la foto con lui di cui vado molto fiero e di cui a lui probabilmente non frega assolutamente nulla ad ogni modo ci siamo trovati nella medesima situazione lui mi ha invitato ad essere sportivo e ad andarci piano io fondamentalmente gli ho risposto che quello che rischiava di fare una figura terribile ero io in quanto ero un professore che se sbaglia le domande ciao Darwin come dire bene l'ultimo giorno ci sono venuti a prendere c'è stata un'altra giornata clamorosa sotto il sole dove ho conosciuto alcuni personaggi incredibili sì in queste due giornate tra l'altro ho avuto il modo di conoscere tutti gli altri partecipanti tra cui uno in particolare è quello che sicuramente molti tra voi possono conoscere ovvero il Tarzan lui così si definisce il Tarzan di Canale 5 o comunque di Mediaset che aveva preso parte da Temptation Island o Ex on the Beach non me lo scusatemi ragazzi io non ho idea uno dei due i miei amici nel frattempo mi avevano mandato un video di lui a mai dire show quindi era stato riproposto come un personaggio particolarmente divertente con delle sue clip a questo programma a cui aveva partecipato lui un mio amico che ci tengo a sottolineare dottore di ricerca in filosofia in storia della filosofia medievale che però adora la televisione trash è questo per farvi capire quanto la realtà è sfaccettata mi ha chiesto assolutamente un video per lui qui hai il Tarzan in diretta da Joe Darwin ti mando un grosso saluto una mossa in realtà ce ne sono stati due perché il primo è quello che avevo fatto io ma lui non era contento il nostro Tarzan e quindi ne ha girato un altro dicendo oggi sono qua con lui stiamo spaccando tutto qui è Joe Darwin ti faccio un urlo di Tarzan in diretta sono qui con lui mi fa morire neanche l'impegno di chiedermi come mi chiamavo comunque un sacco di personalità veramente particolari veramente bizzarre alcuni estremamente simpatici soprattutto i miei compagni di fazione di divano sono stati simpatici è stato divertente alla fine è stata un'esperienza estremamente divertente a livello umano ed eravamo tutti in attesa della puntata che abbiamo girato verso sera io ero tesissimo a quel punto ero veramente tesissimo fate conto che tutti e due i giorni che abbiamo passato sotto il sole io continuavo a fare avanti indietro dal bocciore dell'acqua al bagno io facevo bevevo come un'idrovora e andavo a espellere quello che bevevo questi sono stati i miei due giorni oltre ai provini e alle piccolissime porzioni di tempo effettivamente utilizzate in maniera utile per il resto si chiacchierava io avevo i miei due amici i meno sociali e i meno socievoli del gruppo con i quali stavamo a lato a parlare di anime manga e affini e con loro fondamentalmente mi sono trovato molto bene mi sono anche molto divertito però poi man mano che ci si avvicinava allo shooting della puntata ecco lì veniva veniva fuori il terrore e una volta entrati però il terrore devo dire si è sciolto è stato come vi ho accennato prima come vivere un'esperienza teatrale devo dire che però la tensione si è sciolta si è sciolta piuttosto bene perché loro sono bravissimi quello va dato atto c'è una professionalità clamorosa per quanto riguarda sia Bonolis che Laurenti che anche tutta la gente che gli lavora intorno che sistema le cose ad esempio gli autori che sono sempre lì a vegliare che le cose vadano nella maniera in cui è previsto che vadano che controllano che le cose siano quantomeno accettabili in termini televisivi e la puntata è andata bene è terminata con il mio trionfo con i divanisti che erano tutti esaltati della nostra vittoria la vittoria al gioco finale abbiamo portato a casa la puntata siamo andati in albergo non sono riuscito praticamente a dormire addirittura mi ha chiamato un amico a cui è nato un figlio una notte stessa mi ha detto però è comunque un avvenimento secondario però è vero mi ha chiamato per dimmi che gli hanno dato il bambino un saluto anche a Gregorio e poi siamo tornati con il frecciarossa anche in questo caso pagato dalla produzione quindi di fatto mi sono sbaffato due notti in hotel con due colazioni una abusata l'ultima ho mangiato tantissimo la seconda in realtà pochissimo perché ero tesissimo quindi non ho abusato della colazione internazionale come avrei potuto e come normalmente in hotel avrei fatto bene il racconto della mia partecipazione incredibile incredibile a Ciao Darwin termina fondamentalmente qui io vi do adesso una piccola opinione su quella che è stata la mia esperienza devo dire che è stata un'esperienza divertente vi ho detto io ero tesissimo quindi a livello di divertimento di evasione l'ho vissuta molto relativamente ho conosciuto persone molto interessanti da Agostino che è la persona che mi aveva contattato all'inizio anche a Daniele con cui ho avuto dei bellissimi discorsi ho fatto dei bellissimi discorsi anche relativamente al fatto che io sono lavorato in estetica quindi un po' il rapporto tra pubblico personaggio attore io l'ho scandagliato a livello teorico e che fondamentalmente ero lì sul campo anche per vedere la realtà di questo tipo di dinamica che però è differente nonostante ciò mi ha sempre affascinato molto che è quella della televisione e ho conosciuto anche persone come dire al limite dell'esistenza come si può anche dedurre dalla visione della puntata immagino questo però lo facciamo dire al dottor Sedrei che ha già visto la puntata confermo per quanto mi riguarda l'esperienza è stata quindi sicuramente positiva anche se devo dire ho avuto delle impressioni stranissime io la prima volta che siamo entrati in studio a fare la prova il primo pensiero che ho avuto è stato che era assolutamente fuori tempo massimo la divisione del pubblico in uomini e donne e che mi sembrava folle che ci fosse una divisione così netta quando ad oggi uno dei topic principali soprattutto devo dire del discorso sociale americano non tanto italiano è proprio sulla questione del gender dove invece lì il gender è proprio indicato con la scrittona uomini e la scrittona donne che rappresentano il genere umano questo ovviamente è all'interno dell'ottica darwinista del programma per cui si seleziona la parte dell'uomo che andrà avanti nel futuro però comunque mi ha fatto strano mi ha fatto pensare di trovarmi in un luogo che non sarebbe perdurato più di troppo non so quante stagioni avrà c'è Darwin e gli auguro grande fortuna perché comunque è stata un'esperienza molto divertente molto particolare però sicuramente questo è stato il mio primo pensiero non c'è un'ottica di critica o neanche di ragionamento è proprio quello che ho pensato lì per lì quello che mi è venuto in mente poi devo dire ribadisco ci sono stati dei momenti sicuramente anche altri pure culturali per quanto riguarda qualche dialogo io sono riuscito a portare a seo Darwin un discorso sull'ozio aristotelico che quindi cavolo è un signor oggetto di merito di questo ne sono più che convinto sperando ovviamente che non mi abbiano tagliato perché questo ancora non lo so a livello prettamente filosofico è Aristotele che ci dice che quando raggiungiamo l'ozio ovvero la mancanza di distrazione è solo in quel momento che raggiungiamo il pensiero puro e quindi possiamo creare produrre filosofare aggiungo post visione che oltre ad Aristotele sono riuscito sia a salutare mia mamma che a citare il compleanno di mio papà e a spammare due volte il nome del mio canale nonché addirittura tradurlo però come dire sicuramente il livello culturale non è altissimo non è una cosa di cui andrò fierissimo di aver partecipato a Ciao Darwin sono contento di aver superato anche quello che poteva essere un blocco di avere così tante paure anche a prendere parte a quello che è un gioco fondamentalmente un gioco piuttosto triviale possiamo dire sicuramente con un termine contemporaneo molto trash ma che tutto sommato mi aveva accompagnato da bambino quindi si tratta anche di un'esperienza che ci sta cioè ho preso parte a un qualche cosa che conoscevo solo dal di fuori l'ho visto dal di dentro ho avuto un'esperienza che la stragrande maggioranza della gente non ha cioè ho visto un programma televisivo costruito dall'interno come si fa a girare un programma televisivo così complesso perché in realtà è complessissimo uno potrebbe non pensarlo ma in realtà è veramente complesso ho avuto il modo di parlare con Bonolis anche se solo tramite il gioco finale sono piccolezze sono effettivamente piccolezze tutta questa esperienza è in realtà una piccolezza non c'è niente che io posso dire che mi ha cambiato la vita di questo ne sono sicuramente convinto non è un'esperienza che volevo utilizzare come trampolino di lancio come invece la maggior parte delle persone intorno a me mi sembrava volesse fare perché fondamentalmente io so che il mio campo di vita neanche di studi il mio campo di vita è differente da quello e secondo me questo video può essere molto interessante io signori con questo termino il video spero di avervi dato un po' di divertimento di avervi fatto sicuramente quello che in americano viene chiamato un glorioso mindfuck perdonatemi l'espressione un po' volgare ma è veramente un qualche cosa di clamoroso per come ho voluto costruire io questa situazione dei vostri confronti io spero che non ve lo aspettaste per nulla e che quindi sia una cosa che vi ha colto completamente in controtempo spero anche di non perdere troppi iscritti che si offendano della mia partecipazione a una situazione così trash così triviale cosa che è possibile non è assolutamente impossibile anzi ognuno è liberissimo di iscriversi o di disescriversi del momento in cui lo ritiene opportuno qui al massimo ci dispiacciamo ma non muore nessuno e io come al solito vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo ad un prossimo video siamo tutti mappi grazie a tutti grazie a tutti